L'Italia dei valori è confluito nella rivoluzione civile di Incroia perché riteniamo che ci sia in questo momento il pericolo di un ritorno all'uso personale della politica con questo tentativo di raggirare gli italiani da parte del centrodestra berlusconiano e soprattutto con questa furbata delle tre carte di Monti che dopo aver fatto il tecnico si è messo a fare il giocatore per poi vendersi al migliore offerente il giorno dopo delle elezioni. È tutta la stessa manfrina, la stessa gricca, per questa ragione noi invitiamo ancora una volta il centrosinistra di Bersani a riflettere con chi deve fare l'alleanza. Noi riteniamo che l'alleanza deve essere un'alleanza programmatica, su base progressista, che rilanci la questione sociale, che sia vicina alle parti sociali più deboli, che difenda i più onesti e per questa ragione noi chiediamo agli italiani di dare più forza possibile a questa nostra rivoluzione civile per fare in modo che se non prima, dopo le elezioni, il centrosinistra di Bersani si ravveda da questo suo suicida tentativo di affidarsi dopo elezioni a Monti, di cui oggi dice che contrasta il governo, ma che per 50 volte gli ha votato la fiducia manco avesse la sindrome di Stoccolmo. Luigi, ma c'è la sindrome di Stoccolmo?